Salve qui Antonio Cianci per voi, siamo qui con un'altra video recensione e questa volta io parlerò di Grande Gatsby, l'ultima prova del grandioso Bats Lurman, questa volta il suo stile di regia si fa sentire, per molti sembrerà una versione 2.0 di Moulin Rouge, per l'impianto narrativo, per come vengono distribuite le scene, per la voce fuoricampo che funge anche da voce narrante, questa volta impersonificata dal ex Spider-Man Tobey Maguire, che alcune volte non convince con le sue espressioni facciali, però verso le sequenze finali si riprende e dà modo di farci vedere il suo vero talento. Allora, affiancato da lui, comunque, a Tobey Maguire, riprende il ruolo di Nick Carraway, che è uno scrittore alcolizzato, e che, uno scrittore, beh, nel senso, solo all'inizio si capisce che lui è un alcolizzato, che però procederà nella scrittura, nella trasposizione cartacea di quello che era stata la vita di Jay Gatsby, interpretato da un immenso DiCaprio, che in ogni film in cui lo si piazza, convince sotto tutti i fronti. Comunque, convince spettatori di ogni genere. DiCaprio è un signor attore come non se ne possono più recuperare, gli emergenti devono farsi le ossa per arrivare al livello di DiCaprio, questo è poco ma sicuro. Allora, Buzz Lurman ha ancora la sua regia vorticosa, una mirabolante, che ho notato che riprende ampi scenari, mappe di... fa una mappa globale di quella che è la New York in pieno boom economico del dopo 1920, e da questo scenario, questo intero scenario, dove si inquadra una New York scatenata, una... in cerca di divertimenti, con gente che è affamata di soldi, che non... li vuole sempre di più, vi è anche lo sviluppo, il progressivo sviluppo della borsa, dell'economia, vero fulcro della città di New York. E a capo di tutto questo mondo raccimola soldi, vi è Jay Gatsby, una figura misteriosa, ambigua, che viene trattata nel dettaglio nel corso del film. Di Caprio riesce a interpretare, come al solito, un personaggio molti sfaccettato, molti stratificato, possiamo dire così, e che in apparenza... ecco, la sua apparenza rispecchia tutto quello che noi vediamo nella prima ora di film, che è un'esplosione di feste scatenate, con una fotografia accesissima, con ambientazioni fantasiose, bizzarre, tipico comunque di stampo normaniano, non si può non notare il suo tocco anche in questo, ma comunque sul fronte dell'ambientazione location costumistica, e lui ha una troupe d'eccezione, che comunque sono stati tutti gli esponenti, i migliori esponenti, per trasporre al meglio il romanzo di Fitzgerald, del Grande Gatsby, vero capolavoro letterario, e si ha con sé il meglio, il meglio del meglio, dietro le quinte, come staff e troupe. In più ha comunque come collaboratrice sua moglie, Catherine Martin, mi sembra di non sbagliare, che è la costumista, costumi qui comunque con... beh, abbiamo la Keri Mulligan, qui è un'attrice straordinaria, emergente straordinaria, che è apparsa in film notevoli come Drive, non si può non citare Drive, Shame, molto bello anche quello, An Education, il suo primo film d'esordio, qui ricoperto da costumi brillantinati, con diamanti veri, e Keri Mulligan ha detto che questo genere di costumistica l'ha aiutato molto per calarsi nel personaggio. Come attrice molto brava, la sua monoespressività, attenzione, perché hanno criticato la monoespressività di Keri Mulligan, serve per il racconto, è un'espressione che fa capire molto del personaggio, non deve mostrarsi troppo con le emozioni, non le deve tirar fuori, non deve tirar fuori la più vasta gamma possibile di sentimenti e emozioni, non deve rivelare tutto allo spettatore. Perché? Il perché si capisce alla fine. Mentre si viaggia su due binari differenti, mentre il personaggio interpretato da DiCaprio, noi sappiamo tutto poi del suo personaggio, e per avere anche un quadro completo poi alla fine del film, invece la sua controparte femminile, attenzione, non si sa molto del personaggio di Daisy, però solo alla fine sappiamo qual è la sua vera natura. E' veramente un bel colpo di scena, che non sto qua, anche qui, a rivelare troppo della trama. Abbiamo Keri Mulligan, che interpreta a giusto modo il suo ruolo, e non ha sbavature, perché no? Comunque è un'accurata scelta di cast, anche questa. Buzz Lurman, in fatto di casting, non sbaglia un colpo. Non si può contestare questo. Bene, abbiamo la Santa Trinità, quella che io chiamo Santa Trinità, e vabbè, prima concludiamo dicendo che con Grande Gatsby si ha la conclusione della trilogia sulla follia di Buzz Lurman, perché follia registica, che presenta in superficie un mondo che ci... veramente strano, che ci porta in tutt'altra dimensione rispetto al reale che noi viviamo giorno per giorno, è tutta un'altra dimensione, è un'introduzione di superficie nei suoi film, un'introduzione in questi mondi, veramente ci mandano, ci portano fuori i binari, fuori da ogni binario possibile, fuori da ogni confine del razionale, ti senti spesato. Poi, in questa follia, navigano personaggi ambigui, corrotti o ambigui, non c'è mai un personaggio realmente puro, puro d'animo, ma vengono, corrotti o vengono comunque intinti in questo scenario rappresentato da Lurman, dove in verità non si salva nessuno, e nessuno guarda disgustato quello che si parla davanti, come ambientazione, come contesto, come scena. Noi spettatori, invece, sappiamo come affrontare tutto questo, invece i personaggi che sono dentro lo schermo vengono sommersi dalla maestosità delle riprese di Lurman, dalle ambientazioni che ti fanno impazzire, ti fanno impazzire, beh, non saprei come comportarmi se io fossi lì dentro, ad assaporare ogni dettaglio, ogni particolare di quelle straordinarie location. è follia registica, è follia dei personaggi che vengono presentati come gente per bene, poi alla fine, quando andiamo a scavare dentro la loro psicologia, hanno dei passati tormentati, e ognuno di questi anche dei attacchi di rabbia veramente che comunque ci sono, ci sono sempre i loro attacchi di rabbia, in ogni frangente dei film che ha fatto Lurman. E con questa trilogia abbiamo Trilogia della follia, quella che chiamo così, e la Santa Trinità, ovvero la trinità essenziale necessaria per formare un tipico film di Lurman, che è la regia unita a montaggio irrefrenabile e caotica, secondo una curata e una certosì, cioè una scelta di cast al proprio perfetta, per far sì che attori di grosso calibro riescano a confrontarsi con il mondo creato da Lurman, e una colonna sonora calorosa, è una colonna sonora che questa volta in Gatsby fa da contrapposizione da tutta la follia che viene buttata secchiata d'acqua addosso allo spettatore con però da un'altra parte una colonna sonora sussurrata perché è in gran parte sussurrata che fa riposare l'orecchio questo ha notato al finale poi nel finale rimane a bocca aperta come i soliti finali dei dei lavori più dei lavori comunque indiscussi dei lavori più rilevanti del regista e e che dire un versetto e mezzo a Grande Gatsby e non si non so perché è stato accolto freddamente a Cannes ma si sa che i critici i critici oggigiorno cioè non stiamo lì a credere tanto ai critici dobbiamo seguire niente i nostri gusti i nostri personali gusti cinematografici e bisogna lasciare spazio anche a chi di cinema cioè se ne intende anche poco però bisogna accogliere più voci possibili anche da parte del pubblico e io sono qui per dire la mia tutto quello è sbagliato è sbagliato io a me dispiace che Lurman se ne sia uscito amareggiato da questa apertura al festival di Cannes però gli darei pacche sulle spalle dicendogli guarda sei ritornato il buon vecchio Buzz Lurman di un tempo sono passati 12 anni da Moulin Rouge e ti sei riscattato quindi la mia recensione qui è finita del Grande Gatsby un saluto a tutti e vedremo cosa a che film passare la prossima volta ciao